allora vi propongo un terzo modo per lavorare la maglia inglese che è quello che io preferisco più di tutti perché è quello che trovo più semplice da lavorare anche se ovviamente anche qui dobbiamo stare sempre attenti con la maglia inglese a non fare errori perché è sempre un po più difficile da tornare indietro allora questo tipo di punto è quello per il quale io ho fatto anche il tutorial per poterlo lavorare in circolare proprio perché mi piace questo qui quindi se volete lavorarlo in circolare trovate il tutorial su un altro video allora si fa su un multiplo di tre quindi dovremo caricare un multiplo di tre maglie dovrà sempre essere un multiplo di tre e si inizia così si fa prima un giro tutto a dritto dopodiché si inizia così prendiamo il filo sul ferro in modo da fare una maglia passata già all'inizio come primo punto e facciamo passare una maglia rovescio quindi un gettato e un rovescio poi facciamo due maglie insieme a dritto e così è sempre così per tutto il ferro e per tutti i ferri non cambia mai per questo a me piace perché è molto semplice quindi un gettato una maglia passata e due maglie insieme quindi è sempre così quindi una maglia un gettato una maglia passata e due maglie insieme per tutto il ferro un gettato una maglia passata e due maglie insieme e come vedrete appunto adesso finisco il ferro vi faccio vedere il giro dopo una maglia passata e due maglie insieme finiamo sempre iniziamo col gettato e finiamo come le due maglie insieme vedete in modo che venga proprio tutto già lavorato bene il nostro la nostra maglia inglese allora dietro è uguale non cambia niente quindi prendiamo sempre il filo mettiamo il filo sopra il ferro per fare il nostro gettato che vedete sta dietro e io il ferro lo passo sotto e prendo a rovescio la maglia poi vedete dopo il primo giro le maglie si presentano già insieme quelle che poi vanno lavorate insieme per quello che è molto veloce questa lavorazione quindi vedete un gettato poi io qui ho una maglia diciamo da sola che passo al rovescio e poi vedete insieme questi due perché queste due maglie che io insieme sono quelle che vedete adesso io creo facendo il gettato e la maglia passata vedete rimangano vicine quasi un po intrecciate vedete infatti dopo a me di qua mi si presentano quasi intrecciate quindi e sono quelle che io devo lavorare insieme quindi le due maglie che io lavorerò insieme sono quelle che qui faccio con il gettato e la maglia passata dopo li chiuderò insieme vedete quindi si presentano già pronte a essere prese e quindi vedete la lavorazione è veramente veloce di questo tipo qui di maglia di questo tipo di lavorazione della maglia inglese si fa veramente in fretta a lavorare il risultato è molto bello come vedete è proprio una maglia bella spessa vedete ha delle belle queste costole belle in rilievo e ovviamente essendo una maglia inglese cresce un giro ogni due quindi se voi contate qui queste maglie qui vedete una due tre quattro cinque e sei corrispondano in realtà a 12 giri che io ho fatto ad un dritto un rovescio quindi crescerà solo un giro ogni due la maglia inglese proprio perché fa questo tipo di maglia molto spessa e molto elastica ecco qua questo è il terzo modo di lavorare la maglia a costa inglese e potete trovare anche il tutorial per lavorare sempre questo tipo di lavorazione qui anche sui ferri circolari